E allora per la quarta volta a Milano ho il piacere e il rumore di presentarvi al piano alla chiesa le tastiere è la voce Susanna Parigi e la chitata è la voce Antonella Peppe al basso e al contrabasso elettrico è la voce Antonella Peppe alla chitarra elettrica ed acustica Paolo Paolone Giannambio alla batteria e alle perfusioni Gareth Harrison agli archi i quartetti soli con Lino, Giulio, Gerardo e Antonio E allora questo secolo finisce 10 anni più il 2000 ha perso la sua volontà ci resta solo 92 mila ma vedremo ugualmente le stelle da vicino perché i paparazzi hanno tutti i figli fissi i paparazzi la pistola non è la vecchia e chiamare la mia portatrice e l'astuta scimmio a scuola che si e l'unità mi entra a vederlo niente mi hanno fatto uscire da una flasca con un colpo di calore tutto nudo da mantiene la bianca basta farti la mia professione e l'unità mi hanno fatto uscire da un colpo di calore l'amore e la mia professione ma non è la mia professione mi hanno fatto uscire da un colpo di calore e la mia professione Quando mi è chiamato, dove sta? Vado a vivere in una parella Ti sei presente all'appello, ma sembrava un po' passente Dove, dove stavi comunque che ha finito a fare? Non c'è, non c'è, forse è chiuso e mangio la voce Se il mondo si uccidasse da una parte, mi sembra essere via da sempre morta E' un po' poi del bifanato e di minera, non cercando di vedere le carte E' la rosa, la rosa, ma io distrago, il cavallo, tre, la torre E la sua regina era nata, la mia orecchia ancora sei nel cuore Spesso non c'era e non parlava mai Quando mi è chiamato, è buona sera Dove, dove, non ti rimasto in casa con bambere E' un pescato, non c'è, non c'è, sai nascosto la lungo del genere Dove, dove, non c'è, sai nascosto la lungo del genere Dove, dove, non c'è, sai nascosto la lungo del genere Dove, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.